Prova del 9 superata. Il Monopoli certifica il buon momento di forma espugnando il pinto di Caserta grazie ad un centro di Magni ed agganciando propri falchetti campani in piena zona playoff. Inizio di gara vivace. Monopoli subito pericoloso con Magni, risposta immediata della casertana con Castaldo che manca clamorosamente il bersaglio di testa su servizio di Mancino. Intorno al quarto d'ora doppia occasione per Magni che dapprima trova la risposta di Adamonis poi vede respingersi sulla linea da Lorenzini una conclusione sporca arrivata al termine di un'azione caparbia di Mancino. La gara è vivace. Alla mezz'ora ci prova da fuori Mancino. Palla alta non di molto. Dall'altra parte ci prova Di Marco. Blocca a terra Pissardo. Nel finale di tempo ancora un'occasione per parte. Magni impegna Adamonis sfiorandolo 0 a 1. Per la casertana invece è una punizione di Mancino ad andare vicino al bersaglio. Si va a riposo sullo 0 a 0. Da una punizione, questa volta per il Monopoli, parte la ripresa. Mendicino calcia, Adamonis blocca. I ritmi della ripresa sono più blandi rispetto al primo tempo. La gara sempre incanalarsi sui binari della parità ma a 10 minuti dal termine arriva la svolta. Dapprima la casertana sfiora il vantaggio con Castaldo che reclama anche un calcio di rigore. Poi è il Monopoli a trovare la via del gol con Magnis sul capovolgimento di fronte. Cross di Fabris e Zampata vincente del numero 19 per lo 0 a 1. Subito lo svantaggio la casertana si riversa nella metà campo bianco-verde cingendola da sedio ma esponendosi alle ripartenze del Monopoli che sfiora lo 0 a 2 con Sunas che conclude debolmente da buona posizione. L'espulsione di Zampa al 91esimo lascia in 10 la squadra di scienza ma non incide sul risultato. I bianco-verdi resistano e portano a casa tre punti pesantissimi.